Ho frequentato il master e grazie ad esso sono riuscita ad acquisire molte conoscenze e un impianto metodologico rigoroso. Con le 300 ore di tiroccinio ho potuto poi acquisire un'esperienza considerevole nel settore. Grazie a quello che ho appreso durante il master ho iniziato a costruire il mio progetto professionale. Sono adesso una libera professionista, mi occupo di prevenzione, di potenziamento e di supporto psicologico. Collaboro con cooperative, associazioni e mi rivolgo nello specifico all'ambito scolastico con lavori di progettazione nell'ambito che riguarda proprio quello che è il potenziamento del benessere, le disfunzioni cognitive e dell'età evolutiva. Grazie ai requisiti acquisiti tramite il master sono anche riuscita ad entrare in un'equipa accreditata per la valutazione dei disturbi specifici dell'apprendimento.